Rifletterei su alcune questioni, al di là delle strumentalizzazioni che non mi sembra che le facciamo noi ma le faccia qualcun altro, poi vorrei capire nelle vostre sedi della CISL, quanti profughi ospitate voi, a quante persone date una mano. Io vi dico che il problema è questo, che la gestione del fenomeno dell'immigrazione in Italia è stata utilizzata attraverso la questione dei profughi, ma qui arrivano non solo profughi, arrivano anche tantissime altre persone che non sono controllate e che non scappano da guerre, per cui la strumentalizzazione non la si fa da una parte, la si fa soprattutto dall'altra e la gestione da un anno e mezzo a questa parte del governo è stata fallimentare per tantissimi motivi, il primo è che ci sono state numerose vittime nel Mediterraneo, il secondo è che sono stati spesi tantissimi soldi che vanno in tasca delle cooperative che fanno invilesso sulla belle della gente. E questa cosa va denunciata, è un anno e mezzo che noi andiamo avanti così. Adesso va di accordo con la FIOMA. Mi scusi, mi scusi, finiamo. Poi sui territori c'è questo problema. Noi abbiamo tantissime persone che sono sfrattate da casa, che dormono in macchina, che sono senza lavoro, ed è inaccettabile che rispetto a queste persone, che sono anche persone che hanno costruito questo paese, si venga data priorità ad altre persone. Avete trasformato, il governo ha trasformato le prefetture in agenzie di prenotazioni di albergo. È inaccettabile una condizione del genere. Noi siamo convinti che in un paese normale l'integrazione la si faccia con l'offerta di lavoro. Noi oggi non abbiamo lavoro per le nostre persone. L'abolizione del reato di clandestinità è stato un errore. Il 50% dei ragazzi di Almexpo hanno rinunciato a favore. C'è un tipo di problema, ma non mi spostate, finisco, io vi ho lasciato parlare. Quando lei dice che l'Italia è uno degli ultimi paesi che aiuta queste persone a casa loro, io sono d'accordo con lei, sono talmente tanto d'accordo con lei, che penso che le spese che vengono fatte per operazioni dissennate come quella di Tritomo o di Mare Nostrum debbano essere fatte con l'aiuto e il coordinamento dell'ONU all'interno di quei territori, anche con i soldi italiani.